Grazie a te Cristina, ormai ci conosciamo, sono quasi 5 anni che vengo alle vostre iniziative, quindi voglio fare gli auguri per un felice Natale a tutte le famiglie, dei ragazzi e dei bambini dell'Accademia e speriamo che nel 2011 potrò andare avanti questa collaborazione perché te lo meriti, te lo meriti tu, te lo meritano tutti gli insegnanti dell'Accademia e ci tengo a salutare l'interza fila tuo papà, il maestro Paltrimieri, ancora oggi in tv ancora oggi in tv sono capite che c'è la pubblicità delle fiabe sonore e allora l'ho pensato Buone feste a tutti Allora io volevo dire una cosa Pietro, vediamo, la prossima volta se è possibile avere gli archetti per i bambini e per i ragazzi anche che cantano e che almeno si sentono e le luci che si accendono e si spengono, grazie Ho comprato il karaoke quindi la prossima volta adesso mi sto esercitando il mio vicino non è felice però Va bene, ci sarai anche tu L'altro ringraziamento che va fatto è al consiglio di zona 7 perché ci ha dato la possibilità questa sera di stare qui in casa ad un'occasione visto che abbiamo qui la presenza di due consiglieri di zona il consigliere Pietro Tattarelli e il consigliere Rosario Manno che gli inviterei a dire due parole Buongiorno a tutti, benvenuti come diceva Massimo nel Camolmi che è questo auditorium del consiglio di zona 7 è un auditorium importante perché si trova nella periferia della nostra città ed è importante farlo rivivere è importante farlo rivivere ed organizzare dei momenti come quelli di oggi che possono permettere alla cittadinanza di venire gratuitamente e di assistere ad uno spettacolo in un bel sabato pomeriggio vicino al periodo natalizio quindi voglio ringraziare Massimo e tutta l'associazione culturale cesanese voglio ringraziare tutte le persone che hanno organizzato questa giornata di oggi e fare a voi i migliori auguri per un buon Natale e per un 2011 che speriamo sia un 2011 di rinascita visto che il 2010 è stato un anno un po' dovuto anche alla crisi economica un anno difficile e speriamo che l'anno prossimo ognuno di noi possa realizzare i sogni che ha nel cassetto grazie a tutti e buono spettacolo lo spettacolo sarà tenuto dai piccoli artisti dell'Accademia New Day che attraverso lo studio del canto, della danza, dell'arte e tutte le sue forme imparano che l'arricchimento che dona la musica non è solo una crescita personale ma è anche un bellissimo percorso bello guardarla a me al cielo e al cielo vieni a colorare il cielo di ogni giorno a fare il tempo più felice in torno a te grazie a tutti 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 Deluzioni mia voce, rompe, trovate mia amica, non si può partire da quando tutto parla. E io, è sorprendente accanto a te, quando sale su e sbalancarà, E io, è sorprendente accanto a te, quando sale su e sbalancarà, E io, è sorprendente accanto a te, quando sale su e sbalancarà, E io, è sorprendente accanto a te, quando sale su e sbalancarà,